Ciao ragazzi, io sono Rickuto, benvenuti in questo nuovo video Allora, in questo video, lo so, dovevo portare il tour dove sono stato, per esempio, il WWF Facciamo uno strappo alla regola, perché in pratica cosa è successo? Un evento che mi ha fatto molto incazzare per quello riguardo YouTube Abbo, ma tanto sono sicuro che questa contestazione non servirà a un cazzo YouTube leva 70 iscritti a ogni primo del mese Cioè, ogni mese le verrà 70 iscritti Ma siamo ad agosto? Il primo settembre le verrà di nuovo 70 iscritti I cosiddetti iscritti cattivi leva Cioè, non vi spiego meglio Tipo le persone che fanno dei haters sotto il tuo canale e poi sono iscritte E poi tipo le persone che sono attive sul tuo canale Come le hanno rimossa a me, che io ne avevo 1.400 Meno 70, sono arrivato a 1.330 Guardate Io gli stiamo raggiando 1.400, non so come Vedete che succede Facciamo qua il mio canale Vedete, 1.331 E ho raggiunto 1.400 Pensate un po' con piccolo YouTube Tipo che ha raggiunto da pochi 70 iscritti Proprio il 31 di luglio raggiunge i 1000 iscritti A un certo punto, pa! Meno 70 Arriva a 30 un'altra volta Quello che devi fare quel povero Cristiano Devi chiudere il canale Poi tipo 700 iscritti Se poi dico che so, qualcuno ha 950 iscritti Meno 30, 920, vabbè Si può pure Meno 70 800 Vabbè, si può ancora recuperare Pure io Vabbè 70 iscritti io Purtroppo non posso fare niente Vabbè, 1.300 per me ancora Comunque è un traguardo alto Perché vabbè Vediamo 1.400 Però 70 iscritti penso che li recupererò Mostro a 1.331 E l'ho scalato a 1.329 prima Ne sono aggiunti altri 2 Quindi 70 A meno 31 70 a meno 2 Sono 28 iscritti ancora Per raggiungere 1.400 E mi do augurio Entro il primo del mese A 30 minuti Trovo di nuovo a essere scalato 70 iscritti Mi spazio per voi Sotto per il canale tipo 200 iscritti 70 iscritti soprattutto sono un grande botto Io penso Personalmente penso che Se con YouTube continuo a fare questo fatto Di 70 iscritti In meno al mese Chiudo il canale Perché Dove essermi fatto un culo quadrato Per raggiungere 1.000 iscritti Non è giusto Perché poi tu YouTube me ne dividi pari Ma pazienza Vabbè Io chiudo qua Non vorrei aiutare Ma non so come fare Grazie a tutti Grazie a tutti